Mi duole dover sempre fare un messaggio dedicato, utilizzare il canale per parlare con la popolazione di questo territorio. A parte devo fare un attimo una specifica, ma a chi è che è sembrato che io abbia parlato in tedesco? No, perché a me non sembra, visto che non lo conosco. Fatta questa specifica, continuo. Allora, nel bellissimo sabato che sta per arrivare, volevo precisare a coloro i quali credono che a noi fa piacere stare qui, alla sottoscritta fa piacere stare qui, perché probabilmente siamo venuti in vacanza, perché è bello a Piano e San Paolo, che è una vita. Io, le persone che stanno accanto a me, abbiamo una famiglia, ma soprattutto abbiamo un lavoro. E ce ne torneremmo tantissimo volentieri alla nostra vita, se solo chi ha sbagliato rimettesse le sue colpe in qualunque modo, anche in silenzio, venendo qui in maniera silenziosa, no? Come siamo abituati a vivere in questo mondo, vero? Toglie le ganache, toglie l'adesivo, si riprende i suoi verbali, riporta l'altra auto rubata dell'altra persona e poi ognuno continua la sua vita. A me basta anche questo, non ho mica bisogno di altro, visto che non si riesce ad ottenere il processo che tanto ho chiesto, a porte aperte. No, perché magari ve lo siete scordati, ma io ho chiesto un processo a porte aperte. Alla prossima!